capo hai già visto come sono i pacchi delle varie antenatalizie di bleach e di one punch man ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua andiamo a vedè andiamo a vedà i piripipà nanara nanà allora allora eccole qua ragazzi ecco grimm si inizia si comincia allora questo è bleach e questo è one punch man a parte che hanno costretto giuli mai a fare queste foto hanno costretto lei povera giulia a fare queste foto ok e non si riesce a vedere bene la la particolarità della cover di one punch man perché anche quella ha una patina riflettente quella di bleach si intuisce che quello dovrebbe essere tutto metallizzato rosso anche one punch man c'ha il metallizzato rosso ma così non si vede ok speravo in uno scatoletto speravo uno scatoletto speravo in uno scatolo ma ma c'è va bene anche così dai sì 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 un po vibes token anche paura paura token anche oh mio dio la cosa più brutta del mondo dai ci sta queste sono belle dai personalizzate allora devo dire che però è quasi un dispiacere poi andare a sbustarli perché sono belle sono belle queste buste le hanno fatte belle questa col nastro e poi le decorazioni a forma di palle di neve oppure cristalli di neve qui uguale è la stessa però qua l'hanno fatta tipo in negativo ed è tutto bianco qua invece c'ha una traccia intorno con blu e rosso ma è bello sì 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 e il nastro qua è è dorato no dai è bello è bello però un po mi dispiacerebbe aprirle quasi quasi sono fatte bene vorrei vedere le cover vorrei vederle meglio e forse ci voleva un'altra foto per vedere le cover vabbè lo sapete io in realtà ho sempre apprezzato questa decisione di fare il pacchetto di natale avrei preferito che lo facessero con una serie breve o comunque sai con un volume unico no fai un volume unico ed è lì sì è un regalo qui invece che regalo è proprio il regalo che diciamo noi è proprio il regalo che lo vuoi buttare in culo a noi vuoi rendere un uomo povero per un giorno rubagli il portafoglio vuoi rendere un uomo povero per tutta la vita fallo appassionare ai fumetti cioè one punch man sono attualmente quanti 27 volumi in corso bleach quanti so 74 immaginate bello bello il numero uno bellissimo ma quanto finisce eh non ti preoccupa comincia a recuperare intanto tu vai sempre vai non finisci mai frederick 92 ha riscattato una recensione manga ma sei un pazzo poi che manga recensione in pochissime parole una cosa di cui diciamo parliamo 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 ma poi alla fine non ne parliamo mai cioè io poi che sono il primo membro dell'occult club dj pop ma non ne parliamo mai di dan da dan effettivamente ho fatto pure un incontro a milano per parlare di dan da dan però sul canale non abbiamo mai mai parlato non so perché boh così ci rompevamo il cazzo sottolineiamo membro dj pop è un onore fare un abbonamento a chi mi ha fatto diventare povero boh sono il vostro canale mi dispiace credo dan da dan comunemente chiamato dan 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 da 88 zelda fan si dice sempre ma dan da dan è bello dan da dan è bello però alla fine non ne parliamo quasi mai anche se c'è sempre gennaro che fa parte della della box dell'occult club cioè gennaro oltre alla sua lore di essere un alieno che poi è rimasto qua sulla terra a casa mia gli piacciono i manga eccetera originariamente esce da dentro la box dell'occult club essendo io primo membro ufficiale dell'occult club ho avuto anche modo di parlare di dan da dan diverse volte oggi non lo faremo spoilerando però lo faremo qua sul canale perché diciamo sempre è bello è bello ma poi non se ne parla mai quindi una recensione brevissima uno o due minuti su su dan da dan grazie a frederick 92 allora cosa c'è da dire principalmente di dan da dan a parte il fatto che yukinoputatsu è stato assistente di nostro fratello tazuki fujimoto e quindi ha potuto sicuramente imparare come raccontare bene l'umanità dei personaggi che è uno dei tratti distintivi di questa storia perché oltre a tutte le parti un po alla x files con misticismo folklore alieni che appaiono c'è tanta umanità si vede proprio che i personaggi sono realistici sono scritti bene interagiscono molto tra loro e hanno un background culturale interessantissimo perché ognuno di loro fa qualcosa che ti fa capire tanto della loro personalità ad esempio nel proprio nel volume uno qui c'è okaroon uno dei due protagonisti che divide la scena insieme ad ayase che deve andare dentro un tunnel per per una sfida per scoprire se se ci sta veramente questo mostro oppure no dentro il tunnel e lui per darsi coraggio perché sta dentro sto tunnel buio comincia a canticchiare una canzone city pop di alisa mizuki che era una ex componente del gruppo idol 3m e la canzone è tu shy shy boy e lui si mette si mette a cantarla tra l'altro questa questa cosa è molto importante come fonte esterna perché alisa mizuki questa idol era la base su cui poi l'autrice di sailor moon ha creato il personaggio di rei kino rei bellissima sailor mars la conoscerete sicuramente tutti e ci sono tante scene abbastanza esplicite in dan da dan non c'è proprio del del sesso effettivamente è comunque una storia per ragazzi non ci sono non c'è nudità però c'è sempre qualcosa che un po ti sa solleticare lì tra tra buco del culo e palle nel perineo cioè nel ne uno nell'altra capito però è in mezzo e ti titilla ti titilla proprio là in mezzo per dire guarda potrebbe succedere qualcosa potrebbe essere interessante no sta roba ma 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 non non c'è non c'è non c'è perché che cosa succede e qui arriva quello che ho detto prima l'umanità dei personaggi c'è un capitolo intero dove i due protagonisti dopo aver vissuto un'avventura a un certo punto sono a scuola e vorrebbe parlarsi vorrebbero aprirsi o raccontarsi le cose che gli piacciono l'una all'altra voglio parlarti di sta cosa io ho visto quello studiato sto roba sto libro si cercano per tutta la scuola e non si trovano mai mai tu vedi proprio le vignette identiche dei posti che loro frequentano e uno arriva l'altro se ne va l'altro passa e lei è distante non si vedono mai fino a quando poi non sono seduti a delle panchine divisi da quei classici corridoi avete mai visti non nelle scuole giapponesi quei corridoi coperti all'esterno per unire i vari palazzi della scuola e loro sono seduti ai lati opposti di questo corridoio poi ormai s'arrendono dicono no vabbè tanto non mi pensa più alla fine abbiamo solo fatto questa cosa insieme non era niente di che sfiduciati fanno per andarsene si scontrano e si baciano per sbaglio schifo impazziti e poi che bello però si rincontra cominciano a parlare dobbiamo fare questo dobbiamo fare quello perché dentro c'era c'era il sentimento no c'era l'amicizia l'amicizia vera che li unisce tantissimo si trova nel secondo volume questa questo capitolo che che vi ho raccontato tra l'altro secondo me c'è da dire una cosa importante sul metodo di lavoro di yuki no butatsu perché ha imparato a produrre storie seguendo un metodo osservato a una esibizione della pixar come come facciamo a unire queste cose e sì invece aveva era andato a vedere sta cosa questa exhibition e si era reso conto che creando degli storyboard con delle inquadrature dove mostra il mondo in cui vivono i personaggi lo aiuta a definire molto la personalità dei protagonisti della storia quindi lui parte principalmente dal dal contesto fa prima un world building e poi ci butta dentro questi personaggi e effettivamente lui era già abbastanza bravo qualche anno fa e poteva debuttare però nel 2019 ha avuto un un blocco dell'artista sostanzialmente e lavorava come assistente di tazzo di fuggimoto appunto non riusciva a produrre proprie storie quindi offriva la sua manualità per gli altri e shihei il suo editor che quello è ragazzi c'ha un occhio lungo fantastico shihei quello ha capito subito che cosa gli doveva far fare shihei il suo editor ha detto vabbè non ti preoccupare adesso ti faccio ti faccio vedere io che cosa dobbiamo fare e praticamente lui aveva yuki no putazzo aveva già prodotto dei one shot aveva già fatto queste cose qua e proprio insieme a shihei rin perché ha cominciato a lavorare già nel 2015 poi si è fermato poi è uscito fuori ma in quel periodo shihei rin gli fa realizzare un po di storie il fatto è che l'editor si accorge che lui è più bravo se lo lascia un po a briglia sciolta non è uno che può crearti una storia estremamente costruita fin da subito non ci riesce yuki no putazzo non lo sa fare e allora visto che shihei rin ha detto questo si è bloccato gli ho detto fai la storia così fai la storia colà non la sa fa allora di punto in bianco gli dice senti comincia a disegnare quello che ti pare fai quello che ti pare poi lo aggiustiamo letteralmente allora butta giù tutta sta storia e parte tutto dagli appunti di tazzo cioè aveva tutto un libretto con delle cose tra i quali c'era sadako versus kayako e forse sarà ritornato pure tra piccolette famoso nella cultura pop attuale grazie alla sigla di chance o man perché se avrete visto tutti i vari easter egg della sigla di chance o man c'è anche una scena che riprende la battaglia tra sayako e sadako e kayako e quindi il tema dell'occulto ti piacciono ti piacciono ste cose eccetera e in più tra i vari trucchi di sceneggiatura che stavano apprendendo yoginobutatsu vuole utilizzare tantissimo le logline quindi diceva questa cosa con scritte varie logline praticamente le logline sono quelle cose di sceneggiatura che rispondono alla domanda ma sto film de che parla ok e allora partendo da una logline cominciano a farsi varie domande su ipotetici capitoli e cominciano a buttare giù una prima sceneggiatura di tutto quello che potrebbero raccontare e dan da dan è andato avanti così proprio senza avere una struttura ben definita però grazie allo stile precisissimo pulito ricco di dettagli con delle pagine stratosferiche una azione densa il folklore super divertente i due protagonisti che si danno sempre una mano sono caratteristicissimi sono dei personaggi pop a tutto tondo che conoscono delle cose del cinema della musica che te puoi scoprire soltanto se veramente ti addentri all'interno di queste storie se li vuoi conoscere se vuoi amare o carune aiase tu noti dai vestiti che indossano dalle canzoni che canticchiano che cosa che cosa conoscono qual è il loro il loro grado di conoscenza del mondo ed è poi vabbè disegnato benissimo ma che ne parliamo fa è straordinario abbiamo detto un botto di volte è sempre disegnato bene 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 ecco qua molte cose disegnate da yuki no butatsu fra l'altro ricordano moltissimo torunarita che era sostanzialmente il visual artist di ultraman se avete mai dato anche soltanto per caso un'occhiata ad ultraman noterete che alcuni design di determinati cattivi di ultraman hanno delle robe in comune con yuki no butatsu ed è un'arte questa di creare dei mostri che sono molto uncanny valley sono fuori posto sono strani però il fatto di essere effettivamente fuori posto ti fa capire che sono degli alieni delle creature che non appartengono al piano della realtà che noi conosciamo fatto di umani animali piante eccetera è bello bellissimo 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 si sarebbe molto molto da dire su dandadanne però adesso già abbiamo detto troppo voglia di comprarlo arrivata benissimo frideric benissimo recensione breve dieci minuti no come dieci minuti dai non è vero che ho parlato di dieci minuti dai 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 avrò parlato poco su ciao 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 ciao